Ieri al Teatro Verdi di Salerno la Camera di Commercio ha celebrato le aziende della provincia che continuano a caratterizzare con la loro attività l'economia, lo sviluppo e l'occupazione. Imprese storiche che sono iscritte da almeno 35-50 anni al registro delle imprese con una menzione speciale per quelle che hanno superato i 100 anni. Molte provengono dall'agro nocerino sarnese, da nocera superiore, come l'industria conserviera La Carmela dei fratelli da Cunzi. Fratelli da Cunzi di Nocera Superiore. Fratelli da Cunzi, auguri a tutti i pasquali presenti in sala. Auguri. Ci siete tutti? Tutti griffati? Foto? Al termine della cerimonia di prevenzione c'è stato un confronto sull'attuale scenario economico nell'ambito della giornata dell'economia tra il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e il giornalista economico Oscar Giannino. Grazie. 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 Grazie a tutti